Oggi vedremo come connettere la telecamera per documenti Ladybug ad un computer portatile. Configurazione di sistema Per prima cosa scaricare il software di immagine del Ladybug dal sito. Il sito compare sullo schermo. Per l'installazione del Ladybug guarda il video dedicato. Dopodiché prendi il cavo USB e connettilo al tuo computer da un lato e connetti il cavo con la telecamera Ladybug dall'altro. Configurazione del sistema Connetti ad una lavagna interattiva un altro cavo USB che si collegherà all'altra estremità con il computer. Ora sei pronta ad insegnare. Questa è una produzione Ladybug. Per altre informazioni sentitevi liberi di contattarci sul nostro sito. La creazione di sostanza Questa è la produzioneonedora a un canale. Questa è la produzioneugica di quando si registrami a un cartucho USB